Sono le 9.20 e siamo arrivati sull'ampia cresta tra il Monte Dondena e il Monte Rochas. Ecco il Dondena, sullo sfondo la Vincialand, il Corno del Lago, il Neri, tutto quanto, una meraviglia. Dura, fa già molto caldo, molto molto caldo. Questo è il Monte Delà, questo monte non ha, non mi ricordo il nome, quello scuro. Questo è il Rochas. Questa è la sua spalla. Ed eccoci qua, Fede e Davide. Ora vediamo un po' cosa fare. Com'è Fede? Eh? Com'è? Bene bene, adesso meglio. Sì. 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 Sì.